Tifosi francesi scatenati all'Arena Fontenova di Salvador de Bahia dopo la vittoria schiacciante contro la Svizzera 5-2. I Bleu, con sei punti in tasca e l'ultima partita del girone da giocare, sono così quasi certi di accedere agli ottavi dei mondiali. Loro si sono impegnati in campo, noi sugli spalti. Ci hanno reso felici, ora è il momento dell'euforia. Siamo in Brasile. Viva la Francia, vinceremo la Coppa del Mondo, non molliamo. La generazione del 98 è finita, dimentichiamola, con la nuova guidata da Benzema vinceremo i mondiali. Delusi tifosi svizzeri ma fiduciosi, la loro squadra, terza del gruppo, può ancora farcela. Non ci aspettavamo questo risultato, ma almeno la Svizzera ha segnato due gol, è già qualcosa, anche se il risultato è proprio negativo. La delusione è forte anche per i tifosi italiani per la sconfitta con la Costa Rica, che costringe gli azzurri a giocarsi tutto nell'ultima partita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.